La comunicazione sia a servizio della verità e strumento di speranza. Il messaggio del Santo Padre in occasione della giornata delle comunicazioni sociali in diocesi, giornata a sostegno di telepace. L'ascensione ricorda che Gesù ci ha lasciato la responsabilità di annunciarlo. Durante il Reggine a Cieli il Papa ha pregato per le vittime del terrorismo. Al termine un grazie ai genovesi per la festosa accoglienza. Il Papa ha ridato ali a questa città. Primo bilancio della visita del Papa a Genova da parte del Cardinale Angelo Bagnasco. Tante le consegne lasciate da Francesco alla Chiesa Genovese, questa sera speciale direttamente su. La vita non finisce sulla terra. L'ascensione invita ad avere prospettive alte. Messa del Vescovo in cattedrale, il seminarista Andrea Costa ha ricevuto il Ministero del Lettorato, Alessandro Cavallo, quello dell'accolitato. Chiuso l'Europeo Master di Scherma, Chiavari e l'Italia prima nel medagliere. Gli atleti azzurri hanno vinto sei ori, otto argenti e otto bronzi. Per la città un successo di presenze con oltre 5.000 persone da 35 nazioni diverse. Buongiorno ai telespettatori del TG13, bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione. Sono state giornate intense, quelle vissute dalla nostra diocesi in comunione con quelle di tutta la Liguria. Ancora vive sono le immagini e le emozioni vissute sabato con l'arrivo di Papa Francesco a Genova. Telepace, grazie all'impegno anche di tutti i suoi volontari, ha seguito in diretta i momenti della visita del Pontevice. Ieri invece si è celebrata la 51esima giornata delle comunicazioni sociali, della quale ha parlato il Santo Padre nel Regina Celi, recitato ieri in Piazza San Pietro. Nelle nostre comunità parrocchiali, inoltre, si è svolta la giornata diocesana a sostegno di Tele Radio Pace, che ricordiamo vive grazie all'aiuto dei suoi telespettatori. I temi questi tutti fortemente correlati e per i quali abbiamo un editoriale del nostro direttore Don Fausto Brioni. Lo ascoltiamo. Crissimi, ieri si è svolta la 51esima giornata delle comunicazioni sociali. Per noi di Telepace in un tempo molto particolare, appena compiuto il nostro 27esimo compleanno. Ieri era la giornata di sostegno per Telepace, abbiamo vissuto l'impegno straordinario per la visita di Papa Francesco a Genova. Un tema, quello della giornata delle comunicazioni sociali, che ci invita ad essere comunicatori di speranza e fiducia nel nostro tempo. Vediamo cosa ha detto ieri Papa Francesco a Regina Celi. Si celebra oggi la giornata mondiale delle comunicazioni sociali sul tema «Non temere perché io sono con te». I mezzi di comunicazione sociali offrono la possibilità di condividere e diffondere all'istante le notizie in modo capillare. Queste notizie possono essere belle o brutte, vere o false. Preghiamo perché la comunicazione in ogni sua forma sia effettivamente costruttiva al servizio della vita, rifiutando i pregiudizi e diffonda speranza e fiducia nel nostro tempo. Questo messaggio sintetico vuole essere a corollario di quello che è stato diffuso, un testo che trovate sul sito della nostra emittente www.teleradiopace.com e che invita ad avere attenzione a che cosa mettiamo nel nostro mulino. È la citazione di un padre della Chiesa, quella che fa Papa Francesco, dice che i nostri antichi padri nella fede parlavano della mente umana come di una macina da mulino che mossa dall'acqua non può essere fermata. Chi è incaricato del mulino però ha la possibilità di decidere se macinarvi grano o zizzania. La mente è sempre in funzione, non può cessare di macinare ciò che riceve. Dipende da noi stabilire che materiale gli formiamo. E allora il Papa ci invita per noi, utenti degli strumenti di comunicazione, lo siamo tutti, e poi per quelli che lo fanno, questo lavoro come lavoro appunto, di trasmettere buone notizie, non lasciarci prendere solo dal pregiudizio della cattiva notizia. A volte della maldicenza, notizie buone o notizie cattive, notizie vere o notizie false. A volte per ottenere magari chissà che cosa di scuppo, di ascolto, di attenzione maggiore, si inventano cose che non hanno nessuna attinenza con la realtà. Allora il Papa dice la buona notizia, la buona notizia per eccellenza è il Vangelo, una notizia buona per tutta l'umanità. E poi dice la fiducia nel regno, il Vangelo ci invita a mettere gli occhiali di Dio, a vedere la realtà con gli occhi di Dio, a togliere gli occhiali del pregiudizio, gli occhiali di chi vuole vedere per forza il male, per forza l'oscurità, il torbido, e si lascia fermare da questo pregiudizio. Il regno di Dio cresce e allora avere gli occhiali del Signore, e poi ancora gli orizzonti dello Spirito Santo, cioè non solo gli orizzonti mondani, non solo il basso profilo, ce lo ha insegnato proprio in questo giorno trascorso a Genova il Papa a guardare il mondo del lavoro, la vita religiosa, il mondo dei giovani, perfino il mondo della sofferenza, la sofferenza dell'innocente con uno sguardo rinnovato dallo Spirito di Dio. Allora in questo essere capaci di vedere la novità, il buono, essere di quelli che macinano un grano buono che fa bene a tutti. Il nostro direttore ci accompagnerà questa sera nella trasmissione direttamente su Inondale 21.10, su Telepace 1, al Canale 15, a ripercorrere le diverse tappe della visita di Papa Francesco a Genova. Ieri, ricordavamo, si è svolta anche la giornata a sostegno dell'emittente televisiva diocesana in tutta la nostra diocesi, l'elenco delle comunità parrocchiali che hanno partecipato a questa raccolta domenica e quelle che lo faranno nelle prossime domeniche si può trovare sul nostro sito internet www.teleradiopace.com nella colonna di destra, cliccando proprio sul banner che stiamo vedendo in questo momento. Nella riflessione proposta prima della recita del Regina Celi, Papa Francesco si è soffermato sulla solennità dell'ascensione, ribadendo che questo avvenimento ricorda la dignità e la responsabilità che Gesù ci ha lasciato di annunciarlo al mondo. Sentiamo. Stanno a guardare in aria e ancora non hanno ben compreso che il prodigio a cui stanno assistendo. Gesù che si stacca da terra e sale al cielo non è la fine ma l'inizio. A Regina Celi, affacciato su piazza San Pietro, Papa Francesco ha spiegato che l'ascensione segna il momento in cui la presenza di Cristo nel mondo è mediata dai suoi discepoli. Discepoli che sono ancora una comunità spaurita, eppure a loro Gesù affida il compito immenso di evangelizzare il mondo. Questa promessa è accompagnata dall'assicurazione che Cristo sarà con tutti i suoi fino alla fine del mondo, portando fortezza e sostegno nelle fatiche missionarie. L'ascensione ci ricorda questa assistenza di Gesù e del Suo Spirito che dà fiducia, dà sicurezza alla nostra testimonianza nel mondo. Ci svela perché esiste la Chiesa. La Chiesa esiste per annunciare il Vangelo, solo per quello. E anche la gioia della Chiesa è annunciare il Vangelo. La Chiesa siamo tutti noi battessati. Oggi siamo invitati a comprendere meglio che Dio ci ha dato la grande dignità e la responsabilità di annunciarlo al mondo, di renderlo accessibili all'umanità. Questa è la nostra dignità. Questo è il più grande onore di ognuno di noi. E dopo la recita della Regina Celi, il Papa ha rivolto un appello affinché il Signore converta i cuori dei terroristi, rivolgendo il suo pensiero e la sua preghiera alla Chiesa Copta Ortodossa d'Egitto, insanguinata dall'attentato giadista di tre giorni fa, e ricordando anche le vittime della violenza nell'Arena di Manchester lunedì scorso. In conclusione, poi un pensiero a Genova e ai tanti fedeli che lo hanno accolto sabato. Voglio concludere, ha detto, con un grande saluto ai genovesi e un grande grazie per la loro calorosa accoglienza che mi hanno riservato, che il Signore li benedica abbondantemente e la Madonna della Guardia li custodisca. E grazie al Santo Padre che ha ridato ali a questa città. Così il Cardinale Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova, il giorno dopo l'intensissima visita del Papa, non solamente ha scelto di venire a Genova, e questo per noi è stato motivo di grande gioia, onore e gratitudine, ma anche perché il tour de force che abbiamo fatto fare lui e che lui ha seguito con grande gioia ed entusiasmo. E pochi minuti dopo la partenza di Francesco, è stato proprio l'Arcivescovo di Genova a tracciare un primissimo bilancio della visita del Papa, facendosi portavoce della gioia del Pontefice al termine della lunga e intensa giornata. Sentiamo le nostre microfoni. Era molto contento, stanco, stanco, questo è ovvio, ma molto molto contento, molto contento proprio di sentirsi così abbracciato con tanto calore da tantissima gente. Non si spegne l'eco dell'entusiasmo che ha accompagnato il passaggio di Papa Francesco in terra genovese. A meno di 48 ore di distanza dalla visita del Pontefice all'Arcidiocesi di Genova restano vive le immagini e le tappe che hanno scandito una giornata intensa e a tratti commovente. Dall'incontro con il mondo del lavoro all'Ilva fino alla celebrazione eucaristica conclusiva presieduta a Piazzale Kennedy sono stati diversi i messaggi che Francesco ha voluto consegnare a giovani, lavoratori, ammalati e religiosi. Da questi, secondo l'Arcivescovo di Genova, il Cardinale Angelo Bagnasco intervistato al momento del congedo del Santo Padre all'aeroporto occorre ripartire affinché dalle emozioni del momento nascano frutti duraturi nel tempo. Ce n'è in abbondanza e dobbiamo interiorizzarlo, non dimenticare, non essere turisti, lui diceva. I turisti sono quelli che fanno le foto delle cose più belle ma non le guardano. È vero. L'auspicio che per tutti ci sia un lavoro perché da questo dipende la dignità dell'essere umano è risuonato forte ed è stato accolto con un lungo applauso dai lavoratori che Papa Francesco ha incontrato all'interno dello stabilimento Ilva di Cornigliano. Il Papa ha insistito moltissimo sulla dignità del lavoro. Il lavoro deve essere degno per dare dignità alla persona umana e la quale ha bisogno non solamente di uno stipendio mensile per vivere lui e la propria famiglia ma anche quello di realizzare se stesso. E dopo l'incontro e l'abbraccio dei giovani al Santuario della Guardia ai quali Francesco ha chiesto di non vivere la vita da turisti ma di andare in missione testardi nella Speranza e prima della Santa Messa conclusiva la tappa all'ospedale Gaslini con l'incontro in corsia dei piccoli malati e delle loro famiglie. Ringrazio di cuore coloro che lavorano in questo ospedale il loro lavoro, la loro umanità, la loro carezza ai tanti bambini che da piccoli portano la croce ha lasciato scritto nel registro degli ospiti illustri. Il Papa è passato come un angelo e a tutti ha distribuito un sorriso una mezza parola, una benedizione lasciando proprio il segno. E tra le innumerevoli persone che hanno prestato servizio durante la visita del Papa a Genova anche una delegazione della Polizia Stradale di Chiavari a fare da apripista al corteo papale durante i trasferimenti un'autovettura BMW della Polizia Stradale Chiavarese con a bordo il comandante Massimo Barletta che ha così raccontato l'esperienza in diretta questa mattina nel Buongiorno di Teleradio Pace. Sentiamo. Anche voi avete fatto un gran lavoro e so che tra l'altro lei è capitato anche un compito particolarmente importante e anche, voglio dire, forse una giornata che per lei non sarà tanto dimenticabile nel corso della sua carriera in Polstrada. No, direi di no. Io non so se il compito era importante. È stato senz'altro emozionante fare da apripista alla macchina che precedeva il Santo Padre in tutti i suoi esportamenti che era la macchina che come avrà potuto notare chi ha seguito l'evento in televisione trasportava il comandante della gendarmeria vaticana e il padre Sapienza il regente della casa pontificata. È stata un'esperienza emozionante sicuramente è stata un'esperienza che lascerà il segno ma siamo stati quasi tutti impegnati sia del distruttamento di Chiavari che dalla sezione di Genova che dalla sottosezione della Polizia Autocortale di Genova-Santier d'Arena per sentire la viabilità di una Genova evidentemente bloccata ma l'importanza della personalità non poteva consentire di fare altrimenti e anche il rischio a cui può essere sottoposto un obiettivo del genere in questi momenti particolari non consentiva di fare altrimenti però ripeto è stata un'esperienza sì senz'altro toccante e emozionante credo per tutti coloro che hanno avuto l'onore di partecipare a questo servizio. E ricordiamo ancora questa sera direttamente su speciale appunto visita di Papa Francesco a Genova. La vita non finisce qui sulla terra l'ascensione invita ad avere prospettive alte così il Vescovo celebrando ieri la solennità dell'ascensione in cattedrale. In questa occasione un seminarista ha ricevuto il Ministero dell'Elettorato un secondo quello dell'accolitato. Vediamo il servizio. L'ascensione di Gesù al cielo insegna ad avere prospettive alte non ridotte alla sola vita terrena. Nella celebrazione in cattedrale il Vescovo è invitato a non guardare soltanto all'oggi alle necessità immediate e ai propri interessi atteggiamenti propri della cultura del secolarismo ma piuttosto a cercare quella condizione di vita nuova che prende luce dalla gloria di Dio. È una fuga dal mondo? No, ha risposto Monsignor Tanasini è ravvivare la propria esistenza sentire quella forza nuova che distoglie da egoismi e grettismi senza il timore che tutto finisca qui sulla terra. Se non è vero che a forza di pensare prevalentemente le cose della terra abbiamo perso il senso della grande del grande orizzonte della vita dell'anima. Quanto preghiamo poco come diventa strano l'avere una vita interiore mi diceva una persona alla quale con molta semplicità è stato chiesto ma tu vai a messa tutti i giorni? E lei con altrettanto semplicità ha detto sì vado a messa tutti i giorni e il commento ma è pazza è pazza capite a che punto siamo arrivati a come pensare non ci rendiamo conto che andare a messa tutti i giorni vuol dire tenere aperta questa prospettiva del cielo di incontro con Cristo di legami con Lui vuol dire tenere viva la nostra anima. Durante la celebrazione il seminarista Andrea Costa ha ricevuto il ministero dell'elettorato momento significativo anche per il seminarista Alessandro Cavallo che ha ricevuto invece il ministero dell'accolitato. Gli alunni della seconda media della scuola Francesco Petrarca di Deiva Marina hanno visitato la mostra di icone russe donate al comune di Deiva Marina ed esposte attualmente nella torre Saracena i ragazzi hanno dimostrato grande interesse per l'antica tecnica pittorica e per le scene di carattere religioso rappresentate hanno inoltre potuto visionare l'esposizione libraria inserita nella rassegna il maggio dei libri 2017 domani alle 21 si svolge l'assemblea generale dei soci della Croce Verde Chiavarese nella sede di Largo Casini 10 a Chiavari all'ordine del giorno l'approvazione del conto consuntivo e finanziario dell'esercizio 2016 e i relativi allegati linea adesso alla rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali in edicola quest'oggi ci rivediamo dopo per altre notizie e servizi di sport sfida di Merkel a Trump l'Europa prende al destino nelle proprie mani non possiamo più fidarci degli altri e gli altri sarebbero gli Stati Uniti il presidente degli Stati Uniti è deciso di uscire dall'accordo di Parigi sul clima e poi la legge elettorale in Italia sistema tedesco sì Movimento 5 Stelle il PD stringe sull'intesa oggi gli incontri tra i partiti una domenica rosa e rossa la domenica delle imprese sportive il Gino d'Italia numero 100 premia De Mulen olandese e doppietta Ferrari show a Monte Carlo e poi c'è l'addio al calcio di Totti Roma e le lacrime il romanzo di Totti l'addio del capitano commozione all'Olimpico all'interno del Corriere della Sera reportage al di là del mare a Tripoli nella prigione dei migranti figlio mio non andrai mai a scuola Ashraf e sua madre Jamina tra migliaia di profughi e i loro guzzini l'ONU si occuperà di loro e avveniamo invece al secolo XIX la prima pagina Merkel attacca dopo il G7 scarica Trump e poi doppietta Ferrari trionfa Monte Carlo Totti Pellegri l'eredità del mito al Baby Rosso Blu De Mulen vince il giro numero 100 Nibali solo terzo La Samp perde ma centra l'obiettivo del decimo posto battuta dal Napoli 2 a 4 ma oggi il secolo XIX ospita un'importante intervista al presidente dei Vescovi Europei il cardinale Angelo Bagnasco ora serve più Europa ma con radici cristiane il cardinale si rinuncia alle proprie radici cristiane l'Europa non può dialogare con nessuno non avrà niente da dire e poi naturalmente parla anche della recente visita del Papa Genova il Santo Padre a Genova ha messo insieme due temi orizzonte e coraggio chi non ha orizzonti sbatte contro i muri i giovani vivono in una bolla virtuale piena di finzioni bugie e muti dice il cardinale Bagnasco gli adulti diventino punti di riferimento credibili e poi che il Papa che saluta i genovesi durante l'Angelus grazie ai genovesi per l'accoglienza nelle pagine del Levante il gozzo colpito di striscio a poppa nell'incidente di Sestri il motoscafo ha staccato il motore senza affondare la piccola barca Panero si è tuffato dopo aver urlato a Radaelli di imitarlo l'amico però non è riuscito a salvarsi Chiti vicino alla famiglia ha costernato l'avvocato al timone della barca veloce ha immediatamente prestato soccorso ancora sul secolo XIX europei di scherma chiave ripromossa apprezzata l'organizzazione ora possiamo punteare al mondiale ma serve una nuova palestra ora per gli ultimi aggiornamenti andiamo in redazione vedo pronto Maurizio Garreffa grazie Andrea buongiorno a tutti ricordiamo due consigli comunali che si svolgeranno questa sera il primo a Zoagli con l'inizio alle ore 19 in particolar modo si parlerà del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2016 e poi ci sono varie emozioni e interpellanze tra queste si parlerà di telecamere per la videosorveglianza della presenza dei cinghiali sul territorio comunale e così via il secondo consiglio comunale invece è quello di Rapallo l'assemblea si riunirà alle 20 e 30 tra i vari temi all'ordine del giorno ci sono quelli legati alla disciplina urbanistica degli alberghi in particolar modo si parlerà di Villa Lia e dell'Hotel Ambra e poi dell'assenso su dei lavori di demolizione di un edificio non residenziale che si trova in via Tonnego e quindi la ricostruzione con una delocalizzazione in un altro sito in particolar modo in via Fioria di un edificio invece residenziale è tutto a te Andrea veniamo adesso allo sport la scherma 5.000 persone da 35 nazioni si è chiuso con questi numeri il campionato europeo master di Chiavari ospitato nei giorni scorsi a Chiavari sulle pedane del palazzetto dello sport di San Pierricanne sono saliti ottimi atleti in età adulta che forse per la prima volta hanno fatto balzare questo sport agli occhi del grande pubblico sentiamo Italia prima nel medagliere degli europei master di scherma a Chiavari gli azzurri hanno portato a casa 22 medaglie 6 d'oro 8 argenti 8 bronzi subito dietro Germania Russia Francia e Gran Bretagna successo anche per l'organizzazione 1500 iscritti circa 5000 persone presenti le strade di Chiavari prese d'assalto è il caso di dirlo da atleti accompagnatori credo che sia la dimostrazione che lo sport può essere anche indotto può essere anche turismo e auspico che chiunque presiederà la prossima amministrazione persegua queste manifestazioni perché se fatte prima a livello comunale poi comprensoriale possono essere anche un futuro economico per la nostra realtà alla manifestazione non ha voluto mancare il vescovo che ha salutato organizzatori atleti ha seguito alcuni assalti sulle pedane del palazzetto di San Pierricanne e ha premiato i vincitori di giornata chiusi i quattro giorni di scherma rimane la sensazione di uno sport che rende giovani di una passione che non tramonta lei la passione per la sciabola l'ha sempre avuta io l'ho sempre avuta ho avuto un grande stop dopo 35 anni ho ripreso e adesso come ultimo anno in questa categoria ho vinto è una soddisfazione per tutti noi è un circuito master dove noi ci crediamo facciamo gli atleti seri anche in considerazione dell'età non possiamo non arrivare allenati altrimenti l'età comporterebbe altre controindicazioni e quindi ci definiamo non dei professionisti però degli ottimi atleti questo sì sono tutti schermitori che da anni fanno praticano questo sport come Paul di Fioretto un grosso schermitore Cohen di Sciabola grande schermitore grande vincitore di campionati del mondo campionati europei sembra tutto facile ma in realtà non lo è e grande successo ieri per il dodicesimo convegno della Winner Volley tenutosi nella prestigiosa cornice del circolo golf e tennis di Rapallo il tema oggetto di dibattito è stato il rapporto tra fumetto e sport tra gli interventi quello del fumettista Carlo Candy decano degli sceneggiatori Disney e pilastro della scuola rapallese del fumetto nel suo curriculum oltre 30 storie in tema sportivo in 62 anni di carriera al termine del dibattito è seguita una cena conviviale nel corso della quale sono stati assegnati i premi ad Enrico Prandi ex presidente Panathlon e segretario generale della Lega Nazionale Basket e a Giovanni Orio ex segretario Fabrizio Pagliettine direttore del circolo golf e la coppia Presti Giacomo e Antonella Tassi che a Pontremoli curano il progetto Teodoro per la cura della leucemia infantile e in chiusura un appuntamento per la giornata di domani alle 21 all'auditorio San Francesco di Chiavari il laboratorio teatrale dell'istituto istruzione superiore Caboto di Chiavari con il patrocinio del comune metterà in scena la commedia in tre atti di Derek Benfield non sparate sul postino riduzione adattamento costumi e musiche di Francesca Lamarca i risconti le scenografie sono di Elisabetta Frazzuoli lo spettacolo andrà in onda all'ora e 21 ed è ingresso libero offerta libera il ricavato andrà a favore di Teleradiopace è tutto per questa edizione del TG13 l'informazione torna questa sera a 19.15 con la prima edizione di Tgugli Oggi tutte le notizie le trovate sul nostro sito internet teleradiopace.com grazie per essere stati con noi buon proseguimento di giornate